Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire l'amplificatore per cuffie valvolare Doke Audio U10. Prima di iniziare con la recensione, se ti interessano le recensioni di prodotti audio e Wi-Fi, come ad esempio amplificatori, diffusori, cuffie o come in questo caso amplificatori per cuffie, se ancora non l'hai fatto ti consiglio di iscriverti al canale in modo da non perdere i prossimi video e le prossime recensioni e questo è anche un ottimo modo per supportare il canale. Bene, ora possiamo partire subito con l'unboxing. L'amplificatore per cuffie mi è stato spedito dalla azienda produttrice, la Doke Audio, per testarlo con i miei strumenti di misura e per farne una recensione. L'amplificatore mi è arrivato in questa scatoletta di cartone abbastanza anonima con la scritta in penarello U10 e questa scatolina era praticamente protetta solo da quelle classiche buste di plastica che arrivano quando si comprano prodotti dalla Cina, per intenderci. Andiamo ad aprire con il taglierino la scatola. All'interno troviamo un manuale di istruzioni scritto in lingua inglese, poi un cavo di alimentazione che da un lato ha la presa USB, poi in questo Plurible chiuso con del nastro trasparente che è davvero molto complicato da aprire troviamo la prima valvola che è una 6A2 e poi in un altro pacchettino di Plurible troviamo anche la seconda valvola. Poi troviamo un piccolo pannellino di plexiglia trasparente con un logo di una valvola e di un paio di cuffie, molto carino e poi vedremo dopo a cosa serve, è semplicemente una cosa estetica però molto carina. Infine sempre avvolto nel Plurible troviamo l'amplificatore vero e proprio, non ho gradito per niente questo tipo di imballo in quanto è molto difficile da aprire e si rischia veramente di andare a rovinare l'amplificatore se andiamo ad incidere con un taglierino, bisogna stare molto attenti a tagliare semplicemente lo scotch senza andare appunto a rovinare l'amplificatore. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'imballaggio la Douc Audio avrebbe potuto fare di meglio. Una volta tolto il Plurible abbiamo un'ulteriore busta di plastica che è sigillata da tutti i lati quindi va tagliata anch'essa e finalmente possiamo vedere l'amplificatore vero e proprio, è molto carino, è molto compatto e ha questo frontale molto bello color champagne che ricorda un po' gli acufase diciamo, molto da lontana però in particolare molto carino. Per prima cosa andiamo subito a inserire le valvole negli appositi zoccoli presenti sull'amplificatore, è molto semplice, basta rispettare la pedinatura. Sulla valvola infatti c'è un piedino mancante che manca anche sullo zoccolo dove si innesta la valvola quindi è impossibile inserire le sbagliate, quindi il procedimento è davvero molto semplice. Andiamo poi anche a spellicolare il pannellino di plexiglass che è infatti una pellicola protettiva marrone dietro e una volta spellicolato possiamo andarlo a inserirlo nell'apposita fessura davanti alle valvole dell'amplificatore. Questa è una parte puramente estetica che io trovo molto carina però se a voi non piace siete tranquillamente liberi di non metterla. È molto bella però in particolare quando utilizziamo l'apparecchio a luci spente è una cosa che non si riesce a far vedere nel video. Infatti le valvole sono riluminate con dei led arancioni e la luce dei led viene rifratta da questo pannellino di plexiglass che si illumina anch'esso di luce arancione quindi crea veramente un bel effetto. Vediamo ora il pannello frontale dell'amplificatore, troviamo l'uscita per le cuffie con connettore jack da 6.3 mm quindi il jack grande, poi abbiamo anche un'uscita per le cuffie con connettore mini jack da 3.5 mm, poi abbiamo il potenziometro del volume che quando viene ruotato in senso orario dà anche l'accensione al dispositivo. Una cosa interessante è che il dispositivo al momento dell'accensione non è subito pronto ad erogare il suono ma infatti rimane muto per circa una trentina di secondi dopodiché si sente il click di un relay che viene attivato e l'amplificatore è pronto per funzionare. Questo timer penso sia stato inserito dai progettisti per andare ad attendere il tempo in cui le valvole si scaldano e quindi raggiungono la temperatura di funzionamento e quindi l'amplificatore è pronto per funzionare. Quando andiamo ad abbassare poi completamente il volume sentiamo un click di un interruttore e in questo modo andiamo anche a spegnere il dispositivo. Vediamo poi il pannello posteriore del dispositivo che ha l'ingresso per il connettore di alimentazione e anche indicato che va alimentato con una corrente dc da 5 volt. In dotazione come avete visto dall'unboxing c'è solo il cavo che trasforma questo connettore in un connettore usb infatti l'alimentatore non è incluso nella dotazione. Poco male perché basta infatti utilizzare un alimentatore usb un classico alimentatore usb che utilizziamo per caricare i telefoni. L'unica cosa in questo caso abbiamo bisogno dell'alimentatore da almeno 2A. In particolare ho utilizzato questo che avevo già in casa che è un classico alimentatore per caricare i cellulari. Tornando al pannello posteriore dell'apparecchio troviamo un ingresso di linea RCA per il segnale audio e poi anche un ingresso mini jack da 3,5 mm che è messo in parallelo all'ingresso RCA. Quindi non è possibile selezionare uno dei due ingressi ma sono messi semplicemente in parallelo. Prima di andare a smontare l'apparecchio per vedere il suo interno vediamo brevemente le caratteristiche tecniche più interessanti che dichiara la DAWC audio. In particolare è la risposta in frequenza che si estende dai 20 Hz ai 30 kHz, la potenza in uscita che dice che è maggiore o uguale a 1100 mW su 32 Ohm, l'impedenza delle cuffie che possiamo abbinarci da 18 a 600 Ohm, il rapporto segnale rumore maggiore o uguale di 110 dB e il peso che è molto interessante perché è solo di 200 grammi. Passiamo ora allo smontaggio, basta rimuovere le quattro viti a brugola presente sul frontale e anche la viti a croce posteriore che fissa il connettore RCA per poi andare a sfilare il pannello frontale dal case e in questo modo possiamo andare a vedere il circuito. L'interno è molto semplice, troviamo i due zoccoli per le valvole Poi, altra cosa interessante, troviamo due amplificatori operazionali in particolare gli NE5532 della Texas Instrument quindi questo ci dice che in realtà questo amplificatore non è puramente valvolare ma una parte di amplificazione del segnale viene fatta con questi due operazionali Poi troviamo il potenziometro del volume in parte adesso il relay che come dicevo precedentemente è quello che interviene dopo circa una trentina di secondi dall'accensione per andare effettivamente a smutare l'amplificatore Il circuito è molto piccolo ma è veramente ben organizzato Passiamo ora alla parte di misurazioni andiamo a vedere subito la risposta in frequenza di questo DOC Audio U10 in particolare ho testato la risposta in frequenza su tre resistenze diverse una resistenza da 33 Ohm, la curva verde una resistenza da 150 Ohm, la curva arancione e una resistenza da 300 Ohm, la curva rossa Possiamo notare che non c'è una grande variazione in funzione del carico di questo amplificatore possiamo dire che solo la curva a 33 Ohm è leggermente un po' più bassa dai 500 Hz in giù, ma si parla proprio di decimi di decibel mentre la curva dei 150 Ohm e dei 300 Ohm sono praticamente coincidenti Per quanto riguarda l'estremo acuto superiamo ben oltre quanto dichiarato appunto dall'azienda produttrice infatti arriviamo tranquillamente fino a 70 KHz con un'attenuazione di solo 1 dB quindi abbiamo praticamente moltissima alta frequenza mentre per quanto riguarda le basse frequenze scendiamo tranquillamente a 20 Hz con solo 1 dB di attenuazione sono andato poi a misurare la distorsione armonica di questo amplificatore per cuffie se non sai cos'è la distorsione armonica o se questo grafico non ti dice nulla ti consiglio di andare a vedere sul mio canale il video che ho fatto dedicato alla distorsione degli amplificatori dove vado appunto a spiegare cos'è la distorsione e come leggere questi grafici se ti interessa puoi andare direttamente al video schiacciando sul banner che ti compare adesso in alto a destra per andare a valutare la distorsione armonica introdotta da questo amplificatore sono andato a utilizzare un segnale di test a 1031 Hz con l'amplificatore settato in modo che in uscita avevo un'ampiezza di 1 volt su una resistenza da 33 ohm salta subito all'occhio la seconda armonica piuttosto pronunciata che ha una differenza rispetto alla fondamentale di 63,7 dB ed è sostanzialmente la seconda armonica che viene introdotta dalle valvole le valvole infatti vanno a introdurre sempre una distorsione di tipo pari quindi armoniche pari come la seconda, la quarta e la sesta e così via e sono le armoniche diciamo più piacevoli ad orecchio al contrario delle dispari che invece sono quelle più fastidiose dopo la seconda armonica troviamo una terza armonica che ha una differenza di 98 dB che è veramente un valore molto buono, quasi 100 dB di differenza poi abbiamo una quarta armonica che torna a salire visto che è un'armonica pari a 86 dB poi una quinta armonica a 100 dB e una sesta armonica a 95,7 dB una settima armonica a 111 dB e un'ottava armonica a 104 dB svolgendo i calcoli si ottiene un valore totale di THD quindi di Total Harmonic Distortion pari allo 0,0745% che per un apparecchio valvolare che intrinsecamente introduce molte dispersioni pari è un ottimo valore sono andato anche a valutare poi la distorsione di intermodulazione fornendo all'amplificatore molte armoniche a varie frequenze diverse con un'ampiezza di ogni singola armonica di meno 20 dBV su un carico da 33 Ohm e in questo caso come vediamo abbiamo la somma di tutte le armoniche pari di ogni frequenza che vanno a sommarsi poi anche tra le varie distorsioni di intermodulazione abbiamo un valore medio che si attesta attorno ai 76,7 dB di differenza rispetto alle fondamentali mentre è un valore di picco peggiore per quanto riguarda la distorsione di 51,5 dB che arriva attorno ai 130-140 Hz tradotti in valori percentuali stiamo parlando di uno 0,0146% per la media e di un peggiore di circa 0,266% a parer mio degli ottimi valori tenendo presente la natura dell'apparecchio cosa molto importante tutti i test di distorsione sono stati fatti sia con l'alimentatore switching che vi ho mostrato precedentemente, il classico caricatore del telefono ma anche con un alimentatore lineare da laboratorio e sorprendentemente i valori non sono cambiati minimamente ciò significa che il mio alimentatore switching per caricare il cellulare è veramente di ottima fattura ma anche che questo piccolo amplificatore ha un'ottima reiezione ai disturbi dell'alimentazione ciò significa che anche se gli forniamo un'alimentazione non propriamente pulita come potrebbe essere quella degli alimentatori per i cellulari lui riesce comunque a contrastare questi disturbi e a produrre un suono in uscita molto pulito e questa è una cosa per il mio veramente interessante vediamo ora la potenza che sono riuscito a rilevare di questo amplificatore per cuffie in blu vediamo la potenza rilevata su un carico da 300 ohm in particolare 150 mW dimezzando il carico a 150 ohm come è giusto aspettarsi la potenza sale a 256 mW la cosa strana è che a 33 ohm l'amplificatore riesce a derogare solo 83 mW ed è strano infatti dovrebbe erogare molto molto più potenza da qui si deduce che questo amplificatore è ottimo secondo me per cuffie ad alta impedenza tenete presente che però io l'ho utilizzato anche con cuffie a bassa impedenza e anche a 32 ohm e comunque l'amplificatore funziona molto bene riesce ad erogare riesce ad arrivare a livelli di volume molto alti senza nessun tipo di problema quindi non fatevi spaventare da questo dato di potenza è utilizzabile tranquillamente anche con cuffie a bassa impedenza anche se diciamo che la morte sua il suo ideale è l'utilizzo con cuffie ad alta impedenza veniamo ora alle note d'uso ed ascolto per quanto riguarda le note d'uso è un amplificatore molto comodo perché è piccolino ci sta dappertutto ed è anche un oggetto che è molto bello per il mio anche esteticamente in particolare quando lo utilizziamo al buio le valvole sono retroilluminate con una luce arancione che si proietta anche sul pannellino in plexiglass e si crea veramente una bellissima atmosfera dal punto di vista estetico è veramente molto bello è facile da utilizzare diciamo che la cosa che si fa un po' sentire è la mancanza di un DAC sarebbe stato molto interessante avere un DAC incorporato in modo da collegarci direttamente al pc o alla presa OTG dei cellulari degli smartphone per fruire al meglio della musica invece qui siamo obbligati ad utilizzare un DAC esterno o l'uscita cuffie dei nostri smartphone anche se non è l'ideale visto che il DAC che c'è nell'uscita cuffie degli smartphone è abbastanza scarso e quindi diciamo che è d'obbligo per il mio utilizzare un DAC con questo amplificatore per quanto riguarda il suono sono rimasto molto stupito infatti il suono è veramente molto bello molto dolce è raffinato ma allo stesso tempo dolce cioè non è mai affaticante nonostante sia comunque molto dettagliato sulla parte delle altre frequenze per quanto riguarda le basse frequenze è abbastanza morbido e riesce a rendere delle basse frequenze ben articolate in particolare ho trovato come se riuscisse ad addolcire diciamo le cuffie un po' più asprette in alto cioè le cuffie che creano un po' di fatica di ascolto e sono molto dettagliate questo amplificatore riesce ad addolcirle un po' a merito molto probabilmente delle valvole riesce ad addolcire un po' il suono a renderlo più apprezzabile data la presenza delle valvole quando andiamo a ascoltarlo specialmente con cuffie a bassa impedenza dove il fenomeno si verifica si sente maggiormente è avvertibile qualche leggero fruscio di fondo però si parla veramente di frusci molto bassi e udibili proprio quando solo finisce il brano musicale e non vanno assolutamente a influire sulla percezione dell'ascolto musicale siamo giunti ora ai voti finali per la potenza ho dato un 5 visto la scarsa potenza che ha sulle cuffie a bassa impedenza per le misurazioni un 8 per il suono un 9 per il design 9,5 per la versatilità un 6 e per il rapporto qualità prezzo un 8,5 questo prodotto si trova su Amazon al prezzo di circa 75 euro ma si trova anche su altri siti come ad esempio l'ho trovato su Aliexpress a un prezzo di circa 45 euro quindi qui su Aliexpress il risparmio è molto però c'è anche da dire che Aliexpress non è un sito affidabile come Amazon mentre con Amazon quando prendiamo un prodotto abbiamo modo poi di fare un reso abbiamo poi una garanzia di assistenza su questo prodotto con Aliexpress questa cosa non avviene e inoltre tenete presente che i tempi di consegna di Aliexpress sono di almeno due settimane circa mentre con Amazon il prodotto arriva praticamente il giorno dopo che lo ordiniamo visto che però in questo caso il risparmio su Aliexpress è davvero molto io ho preferito comunque segnalarvi che c'è anche questa possibilità vi ricordo che come sempre in descrizione al video trovate il link di Amazon per andare a vedere il prezzo attuale di questo prodotto visto che i prezzi su Amazon cambiano giorno per giorno il link è un link affiliato quindi se decidete di acquistare questo prodotto o qualsiasi altro prodotto passando prima per il mio link per voi il prezzo non cambierà assolutamente ma io riceverò una piccola percentuale da Amazon che mi può aiutare a migliorare il setup per il canale in descrizione trovate comunque il link di Aliexpress di questo prodotto e anche il link sul sito ufficiale della Doge Audio dove potete vedere i dettagli di questo prodotto e anche acquistarlo su questo sito bene siamo giunti alla fine del video vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like se il video vi è piaciuto per voi è un semplice click ma per me è un ottimo feedback per capire se il tempo che impiego per fare i video è tempo ben sprecato oppure no grazie e al prossimo video